Ciao Kiko, sono Leonardo Albundu, ex campione d'Europa, ispirato in titolo mondiale, comunque io sono venuto a sapere la tua storia e faremo in ogni modo di lottare fino alla fine come ho fatto sul ring, lo faremo anche per te, per farti tornare qua in Italia sano e salvo, dai, forza eh!